A Palazzo Chigi il Premier Draghi ha incontrato i segretari generali di CGL e Cisle Will. Al centro della riunione è presente anche il Ministro Orlando e i provvedimenti del Governo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un incontro definito dal leader della CGL, Landini, importante e positivo. Nel decreto fiscale di domani all'esame del CDM ci sarà il rifinanziamento di altre 13 settimane di cassa integrazione straordinaria con causa alle Covid. Ma il Governo valuterà anche la proposta avanzata oggi dai sindacati di porre a carico delle aziende il costo dei tamponi dei lavoratori.